Buonasera, saluti, bentrovati, siamo qui nel cuore della festa, tanti tanti pastecci, ma non potevano mancare. Presidente, ai 500. Benissimo, a Natale le troviamo a Positano, alle Epifanie le troviamo in Piazza del Casale, sono riusciti a marcare il territorio che anche chi era appassionato e non la possedì se l'è andata a comprare. Sì, infatti ci hanno contattato anche da questa bellissima festa, gli organizzatori, e ci hanno chiesto di colorare un poco questa piazza, siamo venuti con le nostre mitiche 500, con il mito italiano e stiamo aspettando ancora altri equipaggi perché qualcuno ha avuto qualche problema, quindi è rimasto a piccolo. Ma l'invito nasconde un messaggio, un messaggio semplice, segreto, quello che racconta che, di piccolo e bello lo vogliamo dire, è queste strade di montagna che vanno vissute con un'auto del genere e si muove con grande agilità, con tettuccio apribile, molto molto lontano prima ancora che si inventassero questi grandi sub. Quindi, Presidente, sei qua anche per lanciare questo messaggio. Guardiamo al passato per migliorare il futuro. I grandi sub che si incontrano su queste stradine di montagna non riescono a passare, devono lampeggiarsi e aspettare, ma sì o passi tu? E invece passiamo tutti i tuoi. Ma infatti le strade della nostra penisola, e qua vediamo questo vicoletto, sono fatte per queste macchine. Vicoletto che era l'antico tracciato, quindi la strada principale. Grazie, buona serata. Grazie, marescialo, grazie per la mattina.